Pensi che il cambiamento globale è naturale, è falsa, o è solo una propaganda media? Il cambiamento globale è vero, infatti è vero. È creato da un uomo, come dice, o è solo un film naturale? No, è un film reale, preghi attenzione, stiamo destruendo il planeto. È veramente la gente che lo destruisce, o è un processo naturale della terra? Allora, penso che è meglio dire che è un grande fuoco e magari è un foglio medio, altrimenti non hai un luogo abbastanza di acqua per stoppire il fuoco. Certo, il mondo comincia a essere calma, ok. Ma, da quello che ho scritto, è un ciclo. Significa, 5 anni più 5 anni, per esempio, magari sei ognuno, ma hai forgoto che 12 anni fa era il Nino. Il Nino era un luogo incredibile, perché non era mai freddo. Ma dopo, quando il Nino ha lasciato, abbiamo avuto due o tre anni, molto, molto, molto freddo. E, ovviamente, le sezioni sono cambiate, perché, come ricordo, quando ero, quando ero, in settembre, io ero già con il Rhino Cotto. Ora, in settembre, io ero in la piazza. Ma in la stessa stessa, non in l'Italia. In settembre, fino il 25 settembre, io ero in la piazza, per prendere la piazza. Quanti anni fa, in settembre, la prima giornata della scuola era il settembre 2, il settembre 3, io ero già con il Rhino Cotto. Quindi, la scuola è cambiata, ma è cambiata anche perché, penso, la posizione del mondo, la posizione del mondo, è magari 7 gradi, e ora, la Sibiria. Il grande problema, per me, è che tutto il clima allo il mondo è basato nel Messico. del Galfe. Ok. il caldo il water è venuto dal Canada, dell'Alaska, ok? Depende di quanto è venuto, e nel Carribe, si avvicinano un vento, che, senza un'interruzione, ok? è venuto dal nord al nord e questo è il motivo che i aeroporti, molte volte, si cortano. Ok. Basicamente in questo punto, posso dire, che non ho questo grande problema dell'Alaska. Il grande problema è quello dell'Alaska, dell'Alaska, dell'Alaska. dell'Alaska. E posso dire, che l'Altarctica è ancora frostata. Cioè, sì, ok, magari la temperatura in l'Oceano comincia a essere un po' più alto. ma, ovviamente, inizia a vedere quanti toni di chimiche che stiamo mettendo giorno per giorno. Do you know dove è più tóxico? Per me, e nessuno che prende l'acqua, è la fibra che, che ora stiamo usando frequentemente, e quando usiamo il cotone, è la fibra naturale. La fibra naturale è la fibra naturale che, naturalmente, è la fibra naturale. Ma quando usate il t-shirt nilone o altre cose, usate un po' più la fibra, perché, un po' più pulito lo perdere. Questo, per sicuramente, è la città di pesca. E' la città di pesca che hanno appena proprio il nostro plastico o il mio plastico. Questo è quello che ha fatto la più importante perché, adesso, la industria stanno usando la fibra artificiale, ok, ma questa fibra artificiale stanno facendo molta poluzione. È micropolluzione. E poi le fissure. Ah, sì, for sure. Non so, le fissure hanno fatto la testa, e soprattutto nel mare che non è molto profondo, come l'Adriatico. Per esempio, l'Adriatico è un mare che è fermo, perché è da Grecia, l'Italia, e l'Italia, è vicino. Non è molto profondo, magari può arrivare a 40 metri, 35 metri. Abbiamo già testato molti fissi che stanno lasciando il lagone e poi hanno trovato molti plastici dentro. a tutti. Allora? Allora? a tutti. Allora?